Io sono ora per i ragazzi più giovani, al momento Sanremo, giovani, un gruppo fortissimo, ormai da 10 anni mi sono chiesto da Roma, non c'è il nuovo settore. Avremo il tenone Francesco Broghi, tenone in caniera che è andato a con la unità in Italia, è un solo, è un estero, Pianerà, farà un brano di Francesco Sartori, anzi, due brani di Francesco Sartori e poi farà una tirata di un cavallo, per cui sono anche un canone classico, per cui farà anche un pezzo classico. Avremo poi anche un mezzo soprano di Monte Carlo, grazie a Carlo Torella.